La bevanda calda Bere questa bevanda calda composta da miele, limone e acqua sia a dir poco miracolosa. C'è chi elle ha fatto per un anno intero. Ecco cosa gli è successo. Questa testimonianza è tratta dal sito internet ufficiale di Crystal Davis e quella che stai per leggere è la sua personale esperienza. Si dice che bere questa bevanda calda composta da miele, limone e acqua sia a dir poco miracolosa, ma dato che sono spesso scettica, ho voluto fare questo esperimento su me stessa per 12 mesi e vedere se è davvero miracolosa come dicono. Con mia grande sorpresa e gioia posso dirvi che mi sono convertita all'uso di questa bevanda per i seguenti motivi. 1. Non ho avuto un raffreddore, un'influenza o una qualche malattia gastrointestinale durante tutto l'anno. Ora che ci rifletto bene, per tutta la mia vita ho sempre sofferto di disturbi alla gola e avevo frequenti tonsilliti, tanto che mi sembrava di raccogliere tutto ciò che passava. In una grande famiglia, poi, dove ci sono tanti bambini, c'è sempre qualcuno che a momenti alterni sta male. Sono molto contenta perché ora sono diventata immune, anche quando qualche virus o influenza colpisce tutti i miei della famiglia. Una confessione però devo farla. Ci sono stati dei giorni in cui ho saltato completamente l'assunzione della bevanda, anche quando sentivo i primi sintomi influenzali, tanti starnuti in un giorno, spossatezza, mal di stomaco sospetti, ecc., ma niente si è concretizzato. 2. Non ho più bisogno di bere caffè e sono diventata una persona mattiniera. La prima cosa che faccio al mattino appena sveglia è bere acqua con limone e miele, e questa è diventata una pratica ormai consueta. 3. Oltretutto mi è di estremo aiuto perché non ho più quei fastidiosi mal di testa, ho energia più a lungo e sorrido più facilmente. Solitamente al mattino ci mettevo almeno un'ora di tempo per aprire il mio secondo occhio ed ero spesso imbronciata con le persone, ma fortunatamente questa brutta abitudine è svanita. 3. Le persone intorno a me stanno diventando più sane, questa è la mia più grande ricompensa. Questa è stata la cosa che mi ha richiesto più tempo ed energie, spronare la mia famiglia ad utilizzare questa bevanda e convincerli che miele e limone potevano aiutarli a prevenire alcuni dei loro più frequenti malesseri e stati influenzali. Ma dopo aver giocato a fare l'infermiera e aver preparato per loro la mia pozione magica, posso finalmente vedere i benefici. È una bella sensazione sapere che posso aiutare le persone che amo a sentirsi meglio attraverso qualcosa di così semplice e alla portata di tutti. Sono diventata una sorta di super infermiera e questo è a dir poco impressionante. Quella che segue è la mia ricetta. Io generalmente uso il succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele organico, messi in una tazza standard di acqua appena bollita, l'acqua deve aver raffreddato leggermente, ma deve essere ancora abbastanza calda per sciogliere bene il miele. Poi aggiungo un po' di acqua fredda, in modo che si possa bere la bevanda immediatamente in una sola volta, per reidratarmi appena mi sveglio. Tuttavia, il sapore della bevanda dipende molto dal limone e dal miele. Alcuni limoni sono più succosi, altri più aspri, alcuni tipi di miele più dolci, altri meno, quindi solo sperimentando troverai il giusto equilibrio. Per esempio, per iniziare il trattamento mezzo limone potrebbe essere troppo, la mia famiglia ne utilizza un quarto. Perché funziona? Beh, secondo moltissime ricerche e siti web che parlano di salute, ci sono almeno 9 grandi benefici nel bere acqua calda con miele e limone ogni mattina. Qui di seguito troverai i miei preferiti. A. Mantiene la regolarità intestinale e protegge l'organismo dalle infezioni del tratto urinario. Bere questa bevanda a digiuno al mattino stimola il sistema digestivo, ha la funzione di idratare il colon, in più, la combinazione miele-acqua-limone mantiene a bada la stipsi. Agisce anche come diuretico, pulisce il tratto urinario e lo protegge da eventuali infezioni. Questo l'ho verificato e lo posso confermare con assoluta certezza. B. Migliora la digestione. Un peso sano ed equilibrato. C. Dona salute e bellezza. Il limone ha molti benefici per la pelle, ma aiuta anche a purificare il sangue favorendo la produzione di nuove cellule che agiscono come agenti di sgrassatura. Il miele sciolto nell'acqua ha la funzione di ristoratore, antibatterico e collagene aumentando così il tono, la luminosità e la bellezza della pelle. C. Vi posso assicurare che questa bevanda è davvero straordinaria e i suoi benefici sono più che positivi per la vostra salute, ve lo consiglio vivamente. Inoltre il suo sapore è a dir poco delizioso.